Ciao, il circuito che stai per fare è un circuito super specifico per i minuti, quindi prendi carta e pen, segnati gli esercizi da fare e le ripetizioni per ogni esercizio, dovrai solamente impostare un timer dell'altrata di 20 minuti ed eseguire gli esercizi insieme a me. Poi, alla fine del circuito, del primo giro del circuito, se vuoi hai due possibilità, o proseguire indipendente, senza di me, il isolamento con il tuo foglio degli esercizi, oppure torno indietro ogni volta all'inizio del circuito e riparto insieme a me fino allo scadere dei denti. Buon lavoro! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!